che oggi il Signore ci dice, la luce, noi siamo luce, ma siamo luce se crediamo veramente in Gesù, ma credere veramente in Gesù non significa soltanto credere che Lui esiste, è vivo, è risorto, è Dio fatto uomo, sì, questo è fondamentale, ma non basta, dice San Giovanni nella prima lettera, che il brano è preso da lì, il brano della prima lettura, dice che noi dobbiamo credere perché credendo nelle parole di Gesù noi lo vediamo, diventiamo luce perché Egli è luce e lo vediamo e la nostra vita diventa diversa, credere nelle parole di Gesù, questo per me è la cosa fondamentale, cioè io sono cristiano, non solo perché sono battezzato, tra l'altro mi hanno battezzato quando io non capivo, mia madre ci ha tenuto a educarmi cristianamente, a portarmi in chiesa, ma oggi io mi accorgo di tanti che batteggiano i bambini e per loro, per i genitori, può darsi che sia anche la terza volta che entrano in chiesa, la terza volta ci sono sposati in chiesa, si hanno giusti per maledarsi, la terza volta li battevano con il cirino, non ha senso, non ha senso però, sì, 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 ma non dico stupidaggine, sta dicendo così vero e questa per me è importante, è l'educazione dei genitori che aiuta i fanciulli a vivere cristianamente, non basta neanche il catechismo, perché il catechismo fino a quando sono fanciulli, è bello e poi c'è il gioco e poi ci sono tutte le cose, poi crescono se non sono stati educati a credere, ma il credere è credere alla parola di Gesù.